Il No ha vinto in modo straordinariamente netto ai leader del fronte del No le mie congratulazioni, il mio augurio di buon lavoro nell'interesse del paese, nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. Matteo Renzi ammette la sconfitta e ora si apre una nuova pagina di governo, nell'incertezza e nelle polemiche. In Abruzzo grande affluenza alle urne da parte dei cittadini e da oggi si inizia a capire il nuovo quadro politico, iniziando proprio da chi il suo No lo aveva scritto a caratteri chiari, come sinistra italiana. Questa è una vittoria del popolo italiano, sbaglia qualunque partito se intende appropriarsi di una vittoria che appartiene al popolo italiano. Scendo nettamente il piano locale da quello nazionale, noi abbiamo votato per un referendum che ha avuto naturalmente un riflesso politico a livello nazionale con la crisi di governo. Adesso ci auguriamo che il presidente Mattarella faccia una proposta, ne siamo certi perché abbiamo molto affiducia nel presidente della Repubblica, che avvia una svolta negli indirizzi di politica economica e istituzionale del nostro paese. Soddisfazione per i 5 Stelle che oggi sono i primi a chiedere le nuove elezioni per il governo e per l'Abruzzo di missioni immediate del governatore D'Alfonso. Il Movimento 5 Stelle ha fatto un'opera meritoria. Noi abbiamo girato 90 piazze in Abruzzo, abbiamo parlato con migliaia e migliaia di persone, abbiamo spiegato a tutti che si stava mettendo mano, violentando quella che è la più bella Costituzione del mondo. Oggi ha vinto l'Abruzzo, ha vinto Pescara, hanno vinto soprattutto gli italiani. Ora, cosa dire? Se io fossi nel presidente D'Alfonso farei un passo indietro. Andrei via perché questa, a mio avviso, va letta anche come una bocciatura nei confronti di chi si è spesso tanto, di chi ha fatto una campagna elettorale utilizzando ogni tipo di strumento e di mezzo e quindi la bocciatura è evidente. Forza Italia sottolinea la grande affluenza degli abruzzesi come segnale di insoddisfazione delle politiche del PD. In una vittoria straordinaria del no, che è un dato nazionale, l'Abruzzo è la sesta regione in cui la percentuale di no è superiore alla media nazionale. Questo naturalmente ha una rigaduta sul referendum, ma anche una rigaduta sul governo regionale. Il presidente della regione ha molto personalizzato questa campagna elettorale chiedendo un voto sulla sua persona per il sì al referendum. E l'Abruzzo ha votato in massa no, più di altre regioni. Ora è chiaro che questa è una bocciatura della proposta referendaria, è una bocciatura del governo Roensi ed è una bocciatura del governo D'Alfonso.